Quindi non si può entrare finché non viene la Presidente? Sì, ma poi verranno detto, no? E verranno... Quindi c'è uno dei nostri dentro e non possiamo entrare... L'abbiamo invitata a uscire? Lui non è uscito perché voleva stare lì. Ah, perché ho detto dentro? Ma da ieri è cambiata qualche regola, perché prima entravamo anche senza la Presidente nelle commissioni. Fino a ieri siamo sempre entrati in commissione anche senza la Presidente. Da ieri sono cambiate le regole. Da ieri sera sono cambiate le regole. Il Presidente è la mia Presidente, è la mia Presidente, è la mia Presidente, è la mia Presidente. Però penso che ha i suoi problemi. Il problema è la Boldrini, non sono loro.